Finalmente si torna in campo per la Champions League. Milan Club Brugge, o come si pronuncia. Partita importante dove noi, possibilmente, anzi, siamo obbligati, obbligatoriamente a fare punti. Soprattutto i tre punti a vittoria, che ci serve come il pane, giusto? Prima di continuare un attimo con il pre-partita, vi invito a like, campanellina, sostenete il canale. Nel frattempo godetevi questo panorama mozzafiato. Io lo sciupo, lo so, ma risco di rovinarlo. Però se ci riuscite, provate un pochino a guardare e ascoltare, senza concentrarvi su di me. Ancora c'è le polemiche. Le polemiche ribadisco che, come? Ma come? Finché nello scorso campionato, e anche all'inizio di quest'anno, ci è stato fatto dei torti fuori giochi, reti annullate, andava tutto bene. Adesso che però è toccata a noi la partita, e hanno osservato le regole, a metà però, tra virgolette, perché poi lasciamo perdere l'arbitraggio e altri episodi, comunque sulle reti hanno fatto quello che dovevano fare, ovvero osservare il regolamento. Quello che tanti dicevano lo scorso campionato, l'altro anno. Eh, ma il regolamento è così. Va usato così, è così. Le regole sono queste, ecco, non va più bene. Non va più bene, che ipocriti. Non va più bene. Ok, allora diteli di cambiarlo. Ripeto, diteli di cambiarlo questo erogamento. Però quando facevano a voi, e vi ha fatto molto comodo il VAR, andava tutto bene. Ora adesso, di improvviso, si scopre che il regolamento è sbagliato, che non va bene. Ma guardate un po', ma guardate, eh? Vedete? Però noi si era scarsi, si era inguardabili, non si era presentabili. Il VAR andava bene. Veniva applicato nel migliore dei modi. Anzi, con noi proprio perfettamente. Che ipocriti che siete, che ipocriti. Poi, però è anche vero che, se bisogna dirla tutta, visto che guardiamo la media di falli fatti e sanzioni, è vero. Purtroppo siamo anche un po' soggetti. Ahimè. Perché vuol dire? Che vuol dire che le partite, vedete, vengono influite anche così. Non guardate il rigore, basta, il fuorigioco. Vengono influite anche su falli nel resto delle zone del campo. Perché se ti ammunisci due o tre giocatori dopo la prima mezz'ora, te perdi praticamente tre giocatori. Perché non ti possono rendere al 100%. Perché? Perché devono stare attenti, altrimenti rischi di giocare ancora in meno, ancora di più. E questo vuol dire tanto, ragazzi. Questo influisce tanto e costringe anche l'allenatore avversario a effettuare dei cambi, delle sostituzioni che non aveva programmato. E stravolgere la squadra. Vedete che vuol dire? Non è solo il rigore, il fuorigioco. Ci sono tante cose che possono indirizzare e far evolvere una partita. Avete capito? Poi noi è anche vero che bisogna ammettere che tante volte, perché c'è chi dice di no, non è d'accordo nei commenti che ho commentato in giro. Invece sì, perché certe volte commettiamo dei falli proprio da ingenui. Mentre quell'altro vedi che commettono falli più con scaltrezza, più difficili da leggere. Noi certe volte ci lasciamo andare a dei falli che non servono a nulla e che portano solo sanzioni. Quello è anche vero, non è che è solo colpa degli altri. Certe volte bisogna dire, e mi sono cazzato tante volte io durante le partite guardandole, che purtroppo commettiamo questi errori grossolani, che magari ce li possiamo risparmiare. Quello sì, perché so che sportivo, l'ammetto. L'ammettessero tutti, però vabbè, sarebbe troppo bello il mondo. Allora, ragazzi, ai due amichi, messaggio rivolto a due amichi. Arriviamo alla partita, Mr. Forzeca l'ha ribadito anche ieri, il gruppo, la squadra è avanti ai singoli. Io spero che adesso abbiano preso appunti, perché stasera rigiocheranno finalmente, visto che tutti li acclamano contro il club Bruges, giocheranno loro. Gli amici per la pelle, i friends del lato sinistro del campo, no? Loro amici di scorribande, tra giocate e non solo, tra call in break, drink, eh, vero? Tornano, tornano a furor di popolo, perché guai, guai. Ecco, stasera i due amici, per la pelle, hanno l'opportunità di far vedere se hanno capito come aria tira. Se vogliono fare le cose fatte per bene o vengono a passare all'aria e fare un picnic. Perché come si adattano tutti, nonostante le caratteristiche sbagliate, però si adattano e danno una mano? E abbiamo avuto l'esempio, e quello forse è stato anche il motivo per cui Mr. Fonseca se l'è giocata in quel modo? Per far capire a tutti come deve essere, soprattutto a loro. Ecco, stasera, secondo me, è una delle ultime chiamate. Se, anche stasera, saranno assenti, secondo me, cominceranno a traballare. Voi dire, mi pare? E questo non vuol dire, come hanno detto complottisti, che sono quelli che prendono di più, la Red Bird le vuole far fuori così risparmio. Queste sono cose complottistiche. Lasciamo perdere quelle cose lì, non penso che arrivino a tanto. Cioè, ora sì, vabbè che sono pochi di buono, ma ora anche fino a questo punto penso che ci sia un limite. Ma lui, secondo me, lo fa anche per il loro bene. Per migliorarli. Per renderli più responsabili, più consapevoli di quello che devono e che sono. Che devono fare e che sono, capito? Perché non è che lui ce l'ha con loro. Non è scemo, sa che sono giocatori di un altro livello. Però, ahimè, manca il supporto al resto della squadra. Sempre indisponenti. Sempre il pallone lo passano poche volte. Si sacrificano poco. Sempre a lamentarsi. Chi ciondola, chi invece tiene il muso. E questa è l'ultima chiamata stasera. Anzi, una delle ultime. Perché stasera non fai la differenza contro una squadra. Può essere pericolosa, certo. Se in Champions League non è che sono l'ultimo arrivati. Ti può dare fastidio. Ma se non fa differenza col Bruges? Vuol dire che allora, belli, cambiate mestiere e andate a fare altro. Perché così non va bene. Ok? E i loro occhi devono stare attenti a quello che fanno. Devono stare attenti. Perché guardate che hanno i lotti puntati addosso. C'hanno il mirino addosso. Dipende tutto da loro. Che vogliono fare dai grandi. Perché ancora mi sa che non lo sanno neanche loro. Finito qui. Finito qui. Ragazzi, speriamo. Sti tre punti a noi ci servono come il pane. Lo stadio sarà presente come il solito. Sosterrà la squadra. E vuol dire tanto, ragazzi. Perché poi andremo a Bernabeu. Un Real vuol dire tanto. Tre punti stasera. E già comunque prendi una boccata d'ossigeno. E ti sblocchi anche un po' in campo. In Europa. Ok? Dai. Su, su, su. Forza. Sosteniamo il diavolo. Sosteniamo il mister. Sosteniamo i ragazzi fino a prova contraria. E dai. Prendiamoci sti tre punti. Sarà da fare sicuramente. Sarà tosta. Andrà a pesa con le pinze questa partita. Ma sono convinto che se giochiamo come con l'Udinese. con quello spirito lì non ci può fermare niente. Niente e nessuno. Ok? Dai. Dai. Ho l'ultima chiamata per voi. Occhia quello che fate. Oh, ragazzi. Diamoci una svegliata. Evo due. Forza.